Siamo alla prima edizione finalmente di Drag Race Italia, possiamo dire che è un traguardo notevole per il nostro paese. Per noi è anche un punto di partenza, nel senso che non è finita qui, questo è solo l'inizio e per chi scopre oggi l'arte drag è meglio che si allacci le cinture perché sentirà parlare molto di questa cosa, noi siamo qua per fare rumore, giusto? Tanto rumore per rendere omaggio alla nostra Raffaella Carrà, Chiara? Sì, sono arsa, felice perché come dico sempre è lustrini ma con i lustrini si veicolano anche dei messaggi importanti e quindi la favolosità di questo programma sta proprio per questo perché c'è ciccia ma c'è anche anima e tutto e cuore e amore. Drag Race Italia è una conquista, è una conquista non solo della comunità LGBTQI+, ma è una conquista del nostro paese e soprattutto dopo quello che è successo al Senato pochi giorni fa, Drag Race Italia è una bella risposta di inclusività e di libertà. Infatti non hanno capito contro che si sono messi. No, e finalmente adesso sì che potete applaudire perché vi presentiamo un'Italia di tutt'altro genere e di cui potete andare finalmente fieri. Io credo che sia finito. Sper che c'è un parco domani. Già da adesso anche in conferenza stampa si vede la grande intesa che c'è fra di voi. Non ci sopportiamo per niente. E tutta finzione davanti alle telecamere. E pro, esatto. No, ci siamo divertiti perché effettivamente il programma è molto divertente. Il punto è che ognuno di noi ha una passione nei confronti di questo programma. Tommaso è il massimo esperto mondiale Drag Race, Chiara è la paladina dei diritti della comunità LGBTQI+, e io, guardatevi, e quindi ci siamo ritrovati e abbiamo creato veramente una squadra forte. E poi è un programma che non puoi fare se non ti diverti. E se non ti piace? Siamo un bouquet. Siamo un bouquet. Scusa. Chiusa così. Perché meglio di così. Non puoi avere un bouquet. Un'ultima domanda che vi chiedo. Nel cinema, secondo voi ci sono dei film che hanno raccontato bene le drag queen o questo mondo ancora un po' male? Allora, facciamo a rispondere Chiara perché Chiara è l'attrice del gruppo. Ma sicuramente, non per omaggiare Priscilla, ma io credo che Priscilla sia un film straordinario, tra l'altro poi è stato fatto anche un musical meraviglioso, quindi sicuramente Priscilla ha anche... Kinky Boots, come la... Però... Ce n'è una, Priscilla è il mio preferito, tanto è vero che io... ho deciso di chiamarmi Priscilla dopo aver visto il film. Io ci ho chiamato il gatto Priscilla. È vero, è vero. Tommy ha un gatto che è il fantastico, una gatta favolosa che si chiama Priscilla, ma in realtà il film che è un po' meno conosciuto, ma è quello che rappresenta meglio il mondo drag, è Awun Fu, che aveva come protagonisti Patrick Swayze e Wesley Snipes, perché quel film fa capire esattamente che cos'è la drag. La drag viene vista inizialmente come un mostro che spaventa, ma poi quando viene conosciuta meglio, è quella che ti dà i consigli giusti, che ti fa sentire libera, è una mamma, quindi quel film raccoglie l'essenza della vera drag, che non è altro che divertimento... e vita!